non è da tutti raccontare la storia come se fossero storie parlare di francesco d'assisi come se fosse un amico parlare di cicerone o di asigno poglione come se fossero dei vicini di casa solo un po più illustri questa è la capacità di elza flacco affrontare temi importanti e soprattutto storici attraverso il racconto delle piccole storie quotidiane di persone che potrebbero essere loro ma che in fondo siamo noi italico è un romanzo quindi è più che una storia romanzata nel senso che più romanzo che storia anche se la storia fa da sfondo e naturalmente c'è stato un lungo studio prima di iniziare la stesura di questo romanzo è dedicato ad asigno poglione l'italico del del titolo è signo poglione marlucino originario di teate molto noto per lo meno come nome della sua città d'origine però mi sono accorta che rispetto all'importanza che ha avuto come personaggio estremamente interessante e forse è stato un po trascurato per lo meno non è noto a livello diciamo in maniera approfondita e quindi ho immaginato un po di ricostruire la sua storia in particolare la sua giovinezza insomma in un'epoca che quella del passaggio dalla repubblica al principato nel primo secolo avanti cristo a roma e quindi sono un periodo molto travagliato si può dire che asigno poglione sia molto vicino a cesare proprio in questo saper unire l'aspetto diciamo della cultura dell'interesse così per la letteratura lui fu anche un grande oratore con invece poi il senso pratico l'abilità militare e anche politica non dimentichiamo che arrivò ad essere console ma era anche amico di catullo fin dall'età dei 16 anni di virgilio di orazio quindi un personaggio a tutto tondo che sicuramente merita di essere riscoperto anche attraverso un romanzo diciamo che il mio interesse per il romanzo storico per la narrazione storica parte proprio da questo cioè dalla consapevolezza che la storia ufficiale ci rimanda agli eventi ci rimanda alle guerre i trattati ma non ci racconta la personalità i sentimenti e le emozioni dei protagonisti ma anche dei personaggi meno noti e insomma vorrei dire che la coprotagonista di questo romanzo è una donna ed è cecilia metella cecilia metella era la figlia di clodia la celebre lesbia amata da catullo ma rispetto a sua madre molto meno nota invece un personaggio anche lei che era immersa in questa vita frenetica anche negli intrighi della roma di quel periodo di quegli anni è una donna che ha avuto una vita anche sentimentale molto movimentata e io ho immaginato ecco così anche la sua vita accanto a quella di asinio poglione per cui in questo libro sono presenti anche amori e sentimenti perché come diceva anche il grande manzoni cioè il romanzo deve arrivare laddove la storia ufficiale tace Intrighi, amori, sentimenti mi venivano in mente un po' anche le soppopera di oggi poi alla fine In un certo senso sì, tra l'altro la quarta di copertina è di Cristoforo Gorno l'autore televisivo e autore a sua volta di un bellissimo romanzo su Giulio Cesare e lui ha sintetizzato il contenuto del mio romanzo con amori, battaglie, intrighi e tradimenti danno vita a una grande avventura pervasta da un senso di ribellione contro le ingiustizie della storia effettivamente in due righe ha sintetizzato quello che è l'essenza, che vuole essere l'essenza di questo romanzo Grazie! Grazie! Grazie!